I'm bringing it back to Japan Ego wakarimasen Ego wakarimasen Asia America Jen Ego wakarimasen Mi hagi cassegu dalla Ben tutti ragazzi sono Trunks e bentornati In questo nuovissimo video Oggi siamo su Paladins Quindi è nuovo finalmente E entriamo a fare un po' di partite a caso E ci vediamo nella parola Ora ora andiamo su Su un partita Ho scelto Rokus Che è un botte di vita E' un'altra parola Eeeh Lasciate like e iscrivetevi Per arrivare Se arriviamo a 300 iscritti Faccio lo speciale come Sempre praticamente Ho fatto lo speciale a 200 iscritti Mi sono dimenticato di fare 200 iscritti Ma Chi se ne frega Se raggiungiamo I 10 like Faccio una serie Se forse parte Perché la maggior parte delle volte non parte la partita E comunque Io e Sam Dicono che sono molto forti E' un po' di potere appare la destra E' un po' di potere appare la destra Sitten andiamo a 25 iscritti Si 5 4 3 2 1 Ehm un bot che è avvenuto armato andiamo su portale E' un mondo qui, e posso asciugarlo tra me e tra di più. Non mi puoi tirare, vedete? Adesso mi puro, non mi puro. No, è il nostro questo punto adesso. Ripeteremo. Ah, bisogna uscire che ci ha interatti. Abbiamo detto il ventone, il ventone, ok. E' un'unica che vengono da la. Andiamo all'altra parte, non so. Oddio, dove... Non mi ricordo i fatti. Non mi ricordo. E' un po' tantissimo. E' un po' tantissimo. Eh, ma credo anche di un sport in questo gioco. Delle piazioni. Delle piazioni. Che sono queste ciasi. E' un po' tantissimo. E' un po' tantissimo. E mi danno anche... Quelli che sono dentro quest'area. E' un po' tantissimo. Qui siamo dentro ovviamente. Qui siamo dentro. Allora, non ci siete il tiro. No, non è fire. È russa, è diretta. Ancini? No, non di più. Va bene. Per questo momento per dirvi di lasciare like e iscrivervi. prendo due costitieri questo e anche come fa c'è un altro e non è sono quasi al massimo c'è la super al 97% 98% 99% poi la super praticamente vedrete da poco di cosa sarà dicolo il 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 se ci arrivo di l'acqua come detto faremo una challenge con play 23 Comando a vincere la partita. Allora, attacchi e attacchi e attacchi. No. No. Andiamo a portare questa volta. Questo è meglio. No. 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 Non, da. non è vero io l'avevo visto quanto deve rimuere ok prendi un nuovo gioco guarda che sta super Buon escudo Ok, non c'è tanto che c'è il paladino come avevamo lo chiamato qua Non, non, ancora dove c'è il paladino, no? C'è via via? C'è via Vaivamo dopo questa partita , dovremo lanci la partita con il mio horema Pero non c'è tanto che siamo Quindi secondo me, io potrai va appartere Vabbè ci vediamo nella prossima Ciao ragazzi, uno era crashato quindi ho dovuto restare la partita Non abbiamo un front line, ci prendiamo stavolta Che bella questa musica Tutto il mio chiamo Tutto il mio chiamo Tutto il mio chiamo Ok, adesso stai facendo la partita Solo, non ci prendiamo la parte, non ci prendiamo la partita Non è che Non è che 4 3 2 1 S Let the battle begin il posto con la vera di un pochino non è vero è vero ah vittor è scarrato vittor ha solo per chi ha abilitato vittor ha solo per dimostrare vittor che ha un'abilità che ha per evitare il paladino è il paladino che è appena entro in tutto quello che banno è un paladino ecco ma non c'è ma non c'è non l'abbiamo mai visto che la cosa non è qualche quanto è non c'è quindi si deve non so non c'è spettacolo non c'è un'epoca non c'è un'epoca adesso si è reale non c'è un'epoca si è reale E' un attimo E' un attimo Se fosse un attimo E' un attimo Perfetto Qualcun altro che voleva Portsi amassare Perfetto Poi Perfetto E' un attimo Sì, lo sblocco giocando oppure avendo le peste Va bene Va bene Dai Questo video conclude qui Ci vediamo in un prossimo video E niente Ci vediamo in un prossimo video e ciao ciao